Ben trovati nella pressarea dell'ottava edizione di Sciortini Film Festival. Uno dei momenti più importanti dell'intera manifestazione è stato sicuramente lo spazio dedicato alla legalità. Uno dei due cortometraggi presentati in quel particolare contesto è Ladri di Aquile, il cui autore Giuseppe Festa non ha potuto essere qui presente ad Augusta a quest'ottava edizione di Sciortini Film Festival. Ne parliamo, quindi parliamo di questo documentario con Andrea Ciaccio, rappresentante del coordinamento per la tutela dei rapaci. Il documentario racconta una vicenda piuttosto particolare, quella dell'attività di bracconaggio che riguarda un animale molto raro, l'Aquila di Bonelli. Vuole parlarci di questo particolare volatile e soprattutto sottolineare quanto sia importante per la biodiversità e per l'ecosistema siciliano? Sì, l'Aquila del Bonelli è un'aquila mediterranea la cui popolazione nidifica esclusivamente in Sicilia. Il coordinamento, il nostro gruppo di lavoro si è costituito proprio per far fronte al bracconaggio ai danni di questa specie. I pulcini di questa preziosa aquila venivano depredati per essere immessi nel traffico illegale per l'utilizzo nella falconeria. Il gruppo si è costituito nel 2010 perché per caso, casualmente, è stato documentato un atto di bracconaggio ai danni proprio di questa specie. Dalla scoperta di questo fenomeno, dalla documentazione di quest'atto di bracconaggio, si è scoperto un immenso traffico illegale di rapaci che venivano smistati in varie parti d'Europa. Quindi questi rapaci, non solo l'Aquila del Bonelli, ma anche il lanario, che è un'altra specie di falcone tipica della Sicilia, venivano immersi nel traffico dei rapaci in tutta Europa. L'Aquila del Bonelli è una specie particolarmente rara che, appunto, ho detto che nitifica esclusivamente in Sicilia ed è scomparsa negli anni 70-80 dall'area Iblea e noi speriamo che la nostra attività di tutela possa far ricolonizzare nel breve periodo tutta l'area del Siracusano, che era prima considerata un habitat di elezione per quest'Aquila che dovrebbe fare parte del paesaggio siciliano e che sia per il bracconaggio, per la caccia che ne ha grandemente fatto diminuire la popolazione di Aguila del Bonelli ha fatto scomparire l'Aquila del Bonelli da tutto il Siracusano e il Ragusano, sia anche per questo traffico illegale dei pulcini. Quindi, appunto, questa popolazione è arrivata alle soglie dell'estinzione. Grazie al nostro lavoro di monitoraggio e di sorveglianza delle ultime coppie di Aguila del Bonelli in questi ultimi cinque anni possiamo dire, con un pizzico di immodestia e di orgoglio, che la nostra attività ha fatto sì che nel giro di pochi anni questa popolazione di Aguila del Bonelli si riprendesse enormemente, già noi stiamo notando come stiamo scoprendo nuove coppie in molte aree della Sicilia dove da trent'anni non si vedevano, erano assenti queste Aguile e quindi ci stiamo rendendo conto come la nostra attività sia importante perché stia sopperendo agli organi che sono tradizionalmente deputati alla sorveglianza del territorio. Praticamente questa nostra attività che è improntata sulla passione, sull'entusiasmo, sul desiderio di renderci utile, però è tutta basata sul volontariato quando invece notiamo che c'è un'assoluta mancanza di controllo del territorio. Quanto è grande in realtà il fenomeno del bracconaggio in Sicilia? Il fenomeno di questo bracconaggio ai danni di queste specie di rapaci è al di là di ogni immaginazione. In Sicilia operano diverse bande, chiamiamole così con il loro nome, delle autentiche bande di bracconieri che hanno in maniera assolutamente indisturbata e spogliato le popolazioni di rapaci da oltre trent'anni. Quindi che cosa abbiamo notato noi in questi anni? Che la popolazione di Lanario, che è una specie di falcone, la popolazione più importante della quale è proprio in Sicilia, sia la popolazione di Lanario che la popolazione di Agui del Bonelli si sono enormemente depauperate sia per il problema del bracconaggio venatorio sia per questo traffico illegale dei pulcini legati al mondo della falconeria. Una volta recuperati questi pulcini, ho visto nel documentario, vengono poi reintrodotti in natura. Quanto è delicata e difficile questa fase di reintroduzione poi nel loro habitat? Allora il documentario mette in evidenza una delle cose più straordinarie che abbiamo fatto noi come coordinamento nel senso che una delle aquile che è stata sequestrata e qui entra in gioco la tempistica, cioè la tempestività dell'operatività, una di queste aquile che era stata depredata da un nido che noi monitoravamo, che noi tenevamo sotto controllo, quindi uno di questi pulcini grazie. Grazie. ...e che avranno passive continue anche se erano passati oltre 40 giorni dal furto del pulcino e noi abbiamo potuto seguire per almeno due mesi dopo il completo reinserimento di questo pulcino che era stato provvisto di una trasmittente satellitare ed era stato anche al quale erano state decolorate delle remiganti in modo da poterlo identificare anche a distanza quindi noi dopo aver certificato, aver documentato l'immediata riadozione da parte dei genitori di questo giovane aquilotto abbiamo anche potuto provare, abbiamo potuto documentare anche il completo reinserimento perché per oltre due mesi il giovane era completamente sopravvissuto si è reinserito perfettamente nel suo habitat va bene, grazie mille Andrea Ciaccio e buona prosecuzione con Shortini Film Festival grazie, grazie a voi, grazie è onore al regista che ha documentato in maniera, devo dire, molto bella tutta l'attività del nostro gruppo dove tutti i punti, tutte le problematiche relative alla sopravvivenza dell'Aquila del Bonelli sono state messe in evidenza e allora, tanti complimenti a Giuseppe Festa, autore di Ladri di Aquile grazie a voi